Un buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Traffico che scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della regione toscana. In A1 fino alle 12 del 4 novembre è chiuso per lavori il tratto tra Pian del Voglio e Rioveggio in entrambe le direzioni. Su raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale 1 Aurelia per lavori in direzione Livorno è chiuso in entrata e uscita lo svincolo di Follonica Est. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero senso unico alternato per una frana tra Bagni di Lucca e Pian di Ospedaletto. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.